numero 5 scarpiera con seduta imbottita ottimo rapporto qualità prezzo realizzata in legno truciolare di alta qualità con una raffinata finitura bianca fatta per durare anni senza sbiadire la scarpiera presenta due cassetti ribaltabili con ante basculanti ogni cassetto è dotato di due divisori per un totale di tre scompartimenti per sfruttare al massimo lo spazio e contenere fino a 12 paia di scarpe questa scarpiera moderna offre tutto lo spazio di cui hai bisogno per riporre le tue calzature disponibile nel colore bianco puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione numero 4 scarpiera con seduta il cuscino è realizzato in spugna di alta qualità e offre una seduta confortevole la scarpiera ha tre vani portaoggetti e offre spazio per 10 paia di scarpe ci sono maniglie su entrambi i lati della scarpiera grazie al suo peso ridotto la scarpiera può essere facilmente spostata nella posizione desiderata disponibile nel colore bianco o quercia facile il montaggio il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso il link in descrizione numero 3 questa scarpiera in design industrial è molto pratica ed elegante il corpo della scarpiera è bianco con un cuscino grigio sulla parte superiore l'armadietto di sinistra ha spazio per un massimo di 12 paia di scarpe e il vano interno è estraibile l'armadio a destra ha spazio per borse e zaini la struttura è robusta è realizzata in truciolare ecologico di alta qualità la struttura del pannello a doppio strato rende il prodotto più stabile e resistente i cuscini in tessuto di cotone di alta qualità sono molto resistenti e facili da pulire disponibile anche nel colore grigio in descrizione trovi il link di questo prodotto numero 2 scarpiera salvaspazio con seduta realizzata in materiale mdf ha una larghezza di 104 centimetri una profondità di 24 e un'altezza di 52 il cuscino della seduta è molto confortevole ha un'altezza di 5 centimetri la scarpiera con seduta ha un peso di circa 19 chilogrammi e una capacità di carico di 120 chilogrammi dispone di due vani a ribalta e di molto spazio per le scarpe montaggio semplice nella confezione sono incluse le istruzioni e il kit di montaggio disponibile in tre colori se ti interessa a questo articolo trovi il link in descrizione numero 1 scarpiera con seduta effetto rovere uno stile unico che darà un tocco speciale alla vostra casa la scarpiera offre spazio per 6 paia di scarpe e una comoda seduta facile e veloce da montare grazie alle istruzioni dettagliate nella confezione è incluso il materiale per il montaggio la scarpiera ha una larghezza di 80 centimetri un'altezza di 49 e una profondità di 38 ottima qualità trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video